La CGL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è un sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori, disoccupati e disoccupate, giovani, migranti, pensionate e pensionati. Attraverso la sua azione promuove la piena affermazione dei diritti individuali e collettivi sul lavoro e nella società. Le strutture confederali e di categoria perseguono la più ampia partecipazione democratica degli iscritti e dei lavoratori, svolgono le funzioni di rappresentanza sindacale e generale del mondo del lavoro, perseguendo politiche attente ai bisogni sociali sempre più complessi e diversificati. Per questo la CGL difende la funzione e il ruolo della contrattazione collettiva, è impegnata a conquistare la tutela contrattuale per i lavoratori precari e a promuovere politiche tese a ridurre le disuguaglianze sociali. Tutto l'operato del nostro sindacato è guidato ed ispirato dai valori della Costituzione della Repubblica Italiana. La qualità, la democrazia e la sicurezza sul lavoro, l'uguaglianza e l'esigibilità dei diritti, le pari opportunità tra uomini e donne, la solidarietà attiva tra lavoratori e tra le generazioni, lo sviluppo equilibrato tra le diverse aree territoriali, la pace e l'integrazione tra i popoli.